Siamo qui con Fulvio e Roberto Zecchini, titolari della Zecchini, storica azienda produttrice di macchine per legatoria, cartotecnica e packaging di lusso. Mi sembra di capire che il 2022 sia un anno importante per la Zecchini. Sì, in effetti l'anno è un anno molto importante per la nostra società, in quanto festeggiamo il settantesimo anniversario di attività. È un anniversario che rappresenta un punto di partenza e non un punto di arrivo. È un anniversario che ci permette di festeggiare e celebrare quello che i nostri genitori avevano iniziato nel lontano 1952 dall'idea di costruire macchine per costruire libri. Nel lontano 1952 la società fu fondata con la ragione sociale e la fornigrafica, poi con l'ingresso mio e di Roberto negli anni 80 si trasformò in Zecchini Grafor. Attualmente la terza generazione è entrata in società e quindi garantiamo un continuo dell'attività per gli anni a venire. In occasione del settantesimo anniversario abbiamo approfittato per fare investimenti molto importanti da un punto di vista produttivo, introducendo e cambiando macchine a controllo numerico e macchine automatiche. Abbiamo ampliato la superficie del capannone di ben 1000 metri quadri per fare spazio alla nuova linea di produzione della Citron Book, del libro per bambini. Abbiamo acquistato macchine a controllo numerico e quindi abbiamo rimodernato anche la parte produttiva e abbiamo ridisegnato il marchio con un nuovo stile più fresco e attuale. Oggi è il quarto giorno di fiera, come sta andando e che cosa rappresenta per voi questa manifestazione? Da un punto di vista personale sono felicissimo di aver ripreso a partecipare al fiere e eventi di questo tipo che ci permettono di condividere le aspettative, le impressioni e avere degli scambi di opinioni ad persona e non di fronte a un video come si faceva fino a poco tempo fa. Per quanto riguarda la risposta della nostra clientela è stata una risposta più che positiva perché a causa del covid abbiamo anche noi cambiato leggermente la strategia. Non potendo viaggiare per l'estero abbiamo investito molto e abbiamo fatto sforzi di ricerca di mercato e di azioni di marketing per il mercato italiano. Questa fiera prevalentemente si rivolge al mercato italiano e l'affluenza che c'è stata e l'interesse dimostrato per le nostre macchine ci confermano che le scelte fatte a livello di comunicazione e a livello di prodotti sono state centrate e stanno riportando i risultati che ci aspettavamo. Dal punto di vista tecnologico che tipo di sviluppi ci sono stati e quali novità tecnologiche avete portato? Il settantesimo anniversario ci ha caricato di entusiasmo e di idee per nuove iniziative. Una di queste che abbiamo presentato in fiera è la partnership che abbiamo attivato con Conica Minotta per un'azione di co-marketing per la presentazione di un packaging di lusso ottenuto grazie alla loro stampa di qualità in digitale e alla loro finitura di pregio unitamente alle nostre soluzioni per la produzione della scatola di lusso. Quindi questa cooperazione, queste azioni di co-marketing ci hanno permesso di creare questo packaging all'interno del quale c'è una bottiglia con un'etichetta stampata in digitale e personalizzata. Tutto questo è stato molto gratificante in quanto ha riconosciuto da parte di una società multinazionale come Conica Minotta il valore delle nostre attrezzature e la qualità del prodotto che riusciamo ad ottenere. Quali obiettivi ha la vostra azienda nel breve e medio periodo? Gli obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere nel breve periodo sono la produzione di macchine ad alto valore tecnologico studiate appositamente per far fronte alla concorrenza dei paesi asiatici all'interno dei quali la manodopera a basso costo fa sì che si ottengano prodotti molto competitivi con il mercato europeo. A causa della pandemia c'è un ritorno delle produzioni dall'Asia all'Europa per motivi di costo, di tempi di consegna e di qualità del prodotto. Se vogliamo combattere contro i paesi asiatici dobbiamo combattere con la tecnologia che permette di abbassare i prezzi e aumentare la capacità produttiva e garantire una qualità costante della produzione nel tempo. A questo proposito abbiamo sviluppato una linea di prodotti per la produzione dei libri per bambini. Il libro dei bambini è costituito da pagine in cartone, devono essere dei libri semplici, interattivi e molto resistenti. La crescita del libro per bambini in Europa è intorno dal 4 al 7%. Oggi abbiamo già parecchie installazioni in Europa, in Ucraina, in Russia, in Polonia, in Lettuania e continuiamo a installare macchinari. Il vantaggio di questi macchinari è che riusciamo ad avere dei sistemi flessibili in cui possiamo personalizzare i macchinari per rendere il libro sempre più interattivo e sempre più vantaggioso. Puntiamo molto su un discorso di automatizzazione. Il processo l'abbiamo reso completamente automatico in maniera da non richiedere nessun intervento manuale per riuscire a contenere i costi e essere competitivi nel prodotto. Qual è l'elemento caratterizzante della vostra partecipazione a questa fiera? Oggi siamo l'unica azienda europea in grado di fornire macchinari tecnologicamente fatti per i libri per bambini di sofisticata e soluzioni ed in continuo sviluppo. Ogni giorno ci sono soluzioni nuove e noi siamo pronti con i macchinari modulari a rispondere alle esigenze che vengono fatte dalle case editrici e di conseguenza dagli stampatori. Cosa intendiamo noi per i libri interattivi? I libri interattivi sono i libri cui il bambino non deve leggere ma lo usa molto per giocare, per poter avere tante soluzioni per espandere la sua creatività nel gioco. Questi libri devono essere fatti in base a determinate regole di sicurezza per il bambino.